prepariamo insieme la torta cioccolato nutella e fragole il dolce perfetto per gli amanti del cioccolato uova in ciotola un pizzico di sale e uniamo lo zucchero mescoliamo bene il tutto se volete potete utilizzare le fruste elettriche ma non è necessario aggiungiamo quindi l'olio e mescoliamolo benissimo mescolate bene fino a quando non sarà del tutto incorporato a questo punto unite lo yogurt io ho utilizzato lo yogurt greco ma potete utilizzare lo yogurt che preferite del gusto che preferite aggiungiamo quindi il lievito e la farina e setacciamo aggiungiamo anche il cacao e setacciamo a questo punto uniamo le gocce di cioccolato congelate infarinate in questo modo le gocce di cioccolato rimarranno sospese nel dolce e non affonderanno sul fondo della tortiera trasferite il composto nella tortiera imburrata e infarinata se volete un dolce più alto riducete le dimensioni dello stampo il mio è da 24 cm livellate l'impasto e infornate a 180 gradi statico per 25 30 minuti i tempi di cottura dipenderanno dal vostro forno e dallo spessore del tegame utilizzato sfornate il dolce e lasciate intiepidire con l'aiuto di uno stecco praticate dei fori su tutta la superficie della torta fate questa operazione quando la torta è ancora tiepida nel frattempo trasferite in una sac a poche la nutella e farcite ogni forellino con tanta nutella così con la torta calda diventerà semplicissimo ecco qui a accidenti c'è qualche forellino che non ha farcito provvederò subito ricoprite la torta con la nutella abbondante mi raccomando perché se no non è un dolce light decorate la superficie alla come capita qui ho utilizzato una spatola mentre qui ho fatto un decoro con i rabbi di una forchetta sistemate le fragole lungo la circonferenza della torta o come volete voi sempre allora come capita diciamo che questa torta è stata realizzata in frettissima perché era un giorno in ritardo mamma non ascoltare perché non è che avevo dimenticato il tuo compleanno ma semplicemente ero un giorno in ritardo quando me ne sono accorta di corsa ho fatto la torta quindi ecco perché tutto la come capita quindi sistemate le fragole decorate come più preferite naturalmente potete anche evitare di aggiungere la nutella sia dentro che sopra il dolce verrà una torta cioccolato comunque buonissima però così naturalmente è più buona terminate la decorazione io ho aggiunto anche le fragole al centro un'altra fragolina eccola qui e la torta cioccolato nutella e fragole è pronta buon compleanno mamma e grazie a voi per avermi seguito alla prossima video ricetta ciao